Bilancio, giunta e problemi urgenti da affrontare. A Pagani il consigliere di opposizione Anna Rosasessa si sofferma sui primi giorni di governance della città alfonziana. Il nuovo Consiglio Comunale dovrà tornare in aula per l'approvazione del rendiconto 2019. Io la situazione non facile che c'era al Comune di Pagani l'ho denunciata nei mesi sia da Vice Sindaco che in quella breve parentesi di Sindaco facente funzioni. C'è una situazione particolarmente allarmante già per quanto riguarda la macchina comunale che va interamente rivista e riorganizzata perché al momento non riesce a produrre quanto c'è da produrre per la città e poi c'è una situazione economica particolare visto che siamo in stato di dissesto finanziario. Fatto sta però che il Sindaco ha dichiarato più volte sia prima che dopo la campagna elettorale anche in queste battute primissime da Sindaco con delega al bilancio che il dissesto non esisterebbe e che sarebbe stata una forzatura voluta dalla precedente amministrazione. Io mi auguro che possa essere come dice lui che riesca a confutare sia l'approvazione del dissesto da parte del Ministero degli Interni sia le sentenze della Corte dei Conti che hanno già aperto un procedimento per accertare le responsabilità del dissesto. In questo modo potrebbe sicuramente lavorare meglio e serenamente e dare risposte velocemente alla città a partire dalle 40 assunzioni di cui ha parlato in campagna elettorale relativamente sia alla macchina comunale del comune di Pagani sia al comando di polizia locale. Io l'ho detto in consiglio comunale, penso che questa città abbia una grande sfida davanti che è la realizzazione del piano urbanistico comunale. Siamo una delle poche città che è rimasta indietro. Siamo fermi a una delibera della Commissione straordinaria del 2014. Non è stato fatto niente né nei cinque anni di amministrazione Bottone né nei pochi mesi di amministrazione Gambino ma senza ridisegnare la città, il territorio non può crescere, non può andare verso lo sviluppo. E poi ci sono tante priorità, la sicurezza, le politiche sociali, le politiche culturali e giovanili e poi il mercato ortofrutticolo che è un grande volano di lancio economico per la città di Pagani. Mi auguro davvero che questa amministrazione possa dare risposte concrete su tutti i fronti.